L'avvelenamento avviene per ingestione nel nostro organismo di sostanze nocive. I sintomi possono essere immediati o possono verificarsi 24 ore dopo l'ingestione. I sintomi sono i più vari, generalmente sono riconducibili a nausea, vomito, crampi, dolori addominali. Quando le sostanze tossiche sono ingerite involontariamente, per esempio intossicazione da funghi, alterazioni di cibi che producono tossine alimentari come il botulismo, non è sempre facile collegare i sintomi a ciò che si ha ingerito, soprattutto se è passato del tempo. Dunque durante un sospetto avvelenamento risulta indispensabile individuare la tipologia della sostanza tossica ingerita e consultare un medico nell'immediato.